ciao a tutti oggi vi suggerisco la pizza integrale in teglia quindi cosa facciamo prima di tutto dobbiamo pesare l'acqua mettiamo il cuocchio e scaldiamo il tutto 37 gradi velocità 2 per 2 minuti mettiamo lo zucchero, lievito e emulsionare a velocità 4 per un minuto unire tutta la farina integrale un po di olio quindi azionare 4 minuti velocità 1 no scusate velocità 3 dal foro mettiamo il sale adesso prendiamo l'impasto bello morbidissimo mettere in una terrina un tad olio coprire con la pellicola lasciate lievitare fino a raddoppio stendiamo la pizza in teglia quindi mettiamo passato di pomodoro infornare a 250 gradi per 15 minuti mettiamo la mozzarella e lasciamo in cotto per altri 5 minuti eccola pronta ho messo semplicemente un po' di olio extravergine di oliva e un po' di origano buon pranzo o buona cena